Io dico che a volte nascondiamo anche con un elemento di lamentosità permanente tante realtà di assoluta eccellenza che abbiamo nella sanità campana. Nel caso del trapianto di Rene, fra l'ospedale Ruggi d'Aragona e la Federico II a Napoli, abbiamo una realtà di assoluta eccellenza. Abbiamo qui a Ruggi fatto interventi importanti, 306 interventi nel corso dei 10 anni, ma la cosa più interessante è che il risultato di questi trapianti è al di sopra della media per quanto riguarda le condizioni di vita dei pazienti. Ovviamente siamo interessati a migliorare questi risultati, c'è una carenza ai donatori di organo. Credo che il Comune di Salerno introdurrà questa novità, cioè la dichiarazione di disponibilità alla donazione dei cittadini nel momento in cui rinnovano la carta identità. Ovviamente per i cittadini che sono disponibili. Questo significa mettere in rete la disponibilità alla donazione in una rete nazionale che agevola chi deve fare il trapianto. Stiamo lavorando come Regione Campania per approvare una legge che consenta la donazione di organi da vivo a vivo. È evidente che anche questo ci aiuterà a migliorare le performance. Infine siamo interessati a migliorare, incrementare e sostenere il settore dei trapianti perché questo è uno dei campi nei quali abbiamo la maggiore mobilità passiva della Regione Campania. Abbiamo ancora troppi nostri concittadini che per un trapianto vanno fuori Regione. Abbiamo in Campania tutte le qualità professionali, mediche, scientifiche, per garantire prestazioni di assoluta eccellenza. Anche la trapiantologia deve diventare un punto di assoluta eccellenza della sanità campana in Italia.